Buonasera, sono Salvatore Polidoro, ci troviamo al ristorante Delfino di Orginuovi, da un mese abbiamo aperto una nuova attività, il ristorante Teatro dei Sapori e mio figlio Paolo con il suo amico Ivo hanno creato questo ristorante. Sì, da un mese io e il mio socio Ivan abbiamo aperto il Teatro dei Sapori, abbiamo deciso di mettere insieme la nostra esperienza trentennale per fare un locale a base di carne, prettamente base di carne, ma con anche la pizza napoletana, quella lì alta e soffice e anche pesce. Tra le nostre specialità, tagliere di salumi, formaggi italiani e francesi, degli ottimi primi, dei cannelloni della costiera marfitana, delle crespelle, dei casoncelli bresciani e tutte le varietà di risotti, di carne, la fiorentina, il filetto e il nostro piatto forte che è la mitica tartare. Il tutto annaffiato da un'ottima selezione di vini, italiani e stranieri. Un saluto agli amici di Lobresto e che dire, vi aspettiamo numerosi a provare questa nostra nuova avventura qui al Teatro dei Sapori. Ciao a tutti. Ciao.